e rieccoci i miei discepoli ben ritrovati torniamo a parlare di bonsai pre bonsai argomento super gettonato gli amadori sto ricevendo un sacco di domande vi dico subito faccio fatica a rispondere tutti su whatsapp quindi chi non sta ricevendo delle risposte ragazzi chi ha fretta c'è il servizio masterclass ok quindi su youtube dove ci sono i miei video c'è la casolina abbonati cliccate se avete fretta bla 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 perché come avete visto non per tirarmela siamo arrivati a 15.000 iscritti su youtube provate a pensare al numero 15.000 ok se soltanto l'un per cento delle persone mi scrive al giorno sono 150 messaggi che mi arrivano su whatsapp quindi potete capire che diventa abbastanza complesso soprattutto quando si risponde perché dopo c'è un'altra c'è sempre un'altra domanda quindi che cos'è quello è quello ha visto che ci sono no come cazzo si fa e torniamo noi visto che molti sto scrivendo quando è il periodo per raccogliere cosa raccogliere quali sono le piante come devono essere e soprattutto come si fanno sistemare i difetti sulle piante raccolte perché ovviamente piante che raccogliamo in natura ragazzi c'è sempre un perché magari abbiamo culo prima qualcosa di valido però molto spesso non abbiamo quello che che fa per noi semplicemente perché madre natura non pensa alle nostre idee da bonsaisti no quindi i rami nascono da posizioni che non ci servono il fronte spesso ha dei difetti esagerati il piede molto spesso non si trova nella posizione giusta e ci sono fittoni che vanno molto lontano quindi le randici quelle buone partono da molto lontano alla pianta quindi come possiamo fare per raccogliere queste piante primo ovviamente ragazzi per quanto riguarda le tempistiche so che avete una scimmia dalla madonna so che siete già lì con i picconi con le seghe so che siete lì già ma a mani nuda strappare agli alberi regola 1 ragazzi non si può fare cioè se se il terreno non è il vostro non si può fare semplicemente non rompete i coglioni non si può fare ok non si può andare a raccogliere in giro le piante primo secondo terzo primo perché ovviamente soprattutto siete nel parco forestale nei parchi e non si può soltanto toccare le piante e poi se trovi se vi trovate pure in un terreno privato quindi un'altra persona maggiore ragione che non vanno non ne vale più la pena di andare là a iniziare a fare i casini a meno che non abbia non abbiate il consenso quindi avete chiesto il permesso alla persona quindi se le trovi se avete un amico se andando in giro trovate qualche pianta che vi piace vedete che c'è una casa secondo me buona cosa suona il campanello dire oh ragazzo mio io sono un bonsaista posso portare via quella pianta lì ti dà fastidio posso prenderla questo perché perché 9 volte su 10 le piante che troviamo noi che sono tanto belle alla maggior parte delle persone fa schifo perché per caso della gente magari loro cercano delle piante più adatte al giardinaggio quindi piante che sono fatte standard dritte con i rami così invece a noi ci interessano le piante difettose seguitemi piante difettose cosa vuol dire piante che hanno delle strane forme che magari non si addicono poi a piante ornamentali da tenere comunque piante di presente in un giardino quindi molto spesso anche se andate nei vivai vivai normalissimi piante che loro magari buttano via possono essere considerate piante buone per noi quindi molto spesso piante che hanno dei difetti grossi le troviamo ad un prezzo anche ragionevole questo perché semplicemente il vivaio il vivaista non ragiona come un bonsaista lui deve vendere al dettaglio una pianta normale a delle persone normali ok siccome noi siamo scemi siamo bonsaisti allora vediamo tutt'altro ad esempio vedo delle piante vedo dei rami dove non ci sono che ne so punto fondamentale quando si raccoglie una pianta perché mi state chiedendo tutti questa cosa qui quanto terreno devo togliere quando vado a raccogliere la pianta cazzo bisogna vedere come si è messi cioè bisogna tirare su e vedere come si è messi dietro perché perché se tirate su un alberello un albero quello che è e vedete che i capillari sono tutti lì attaccati al tronco che escono tutti così si può tranquillamente portare via pulire non dico non dico portare la radice nuda tenete un pochettino di zolla bene o male male non fa però buona cosa perché potete già mettere una pianta in un vaso in un contenitore che non è gigantesco ok fondamentale e anche per quelli che mi stanno chiedendo quanto deve essere grande il vaso per quando si raccoglie la pianta fatti vedere fatti vedere due secondi eccolo qui quanto deve essere grande sto sto cazzo sto vaso è magagna diglielo a te eccoci dipende sempre da cosa andate a raccogliere cioè se raccogliete una pianta che è così con un vaso così siete già a posto se raccogliete invece un mostro che è grande come voi ci vorrà una bella bacinella e attenzione il consiglio che vi do di non raccogliere piante veramente troppo grosse perché poi è molto faticoso spostarle cioè avete sempre bisogno di uno schiavo a casa che vi prende le cose ve le porta vi aiuta vi tira su no? per carità se avete un fratello da da serviziare così che vi aiuta che vi annaffi anche lei perché molto spesso quando si inizia a raccogliere poi se ne raccogliono una valanga e molto spesso fanno tutte schifo però per carità poi dopo comunque vi riempite di lavoro ci si riempie di lavoro ok quindi raccogliete giusto e poca roba una cosa fondamentale a volte capita di trovare che ne so una quercia un ginepro che però sono in mezzo ai sassi quindi ho un terreno molto argilloso compatto oppure sono piante che vengono su da radici di altre piante quindi sono proprio delle propaggini ok? cosa significa? abbiamo delle radici molto lunghe e fittonanti quindi la pianta sta qui le radici magari sono anche a 10 metri ok? cioè il fittone parte per andare poi a creare capillari a 5 a 3 5 10 metri ok? cosa si può fare in quei casi? allora secondo me se c'è qualche capillare indietro si può anche rischiare però ho fatto una margotta poi andate a controllare via dicendo poi la staccate e avete la vostra pianta se no secondo me non ne vale la pena cioè veramente oppure valutate se sono ginepri il fatto che la radice fittonante può diventare dopo il tronco della pianta ok? che è molto interessante perché molto spesso ci sono questi ginepri che vanno giù vanno giù come delle bisce alla fine c'è lì c'è lontano un tridallo di metri però buona cosa che si può raccogliere tutto si fa tecchire poi l'anno dopo pianta compatta super dinamica e le radici partono subito lì cosa abbiamo fatto? quindi semplicemente abbiamo compresso la pianta quindi abbiamo creato un albero nuovo e questa cosa qui sulle conifere quindi tasso ginepri si può fare tranquillamente quindi attenzione però ovviamente ci vogliono delle piante che hanno elasticità ci vogliono piante che sinceramente si devono prestare proprio questo lavoro qui cioè se trovate un olmo e iniziate a fare tutte queste pieghe eeeh cazzo no dai fa schifo dai non va bene ok? quando operare? qual è il periodo migliore? molte vanno anche ottobre, novembre vanno a tassi andiamo a tassi, andate dove vi pare, secondo me la cosa migliore è andare a raccogliere verso fine febbraio che è come se fosse un rinvaso cosa fare appena avete raccolto la pianta? visto che molti rirono ah devo imbustare, devo mettere il francobollo i ragazzi vi dico la verità non ho mai imbustato una pianta in vita mia e ho sempre avuto degli ottimi risultati questo perché? perché le piante che raccoglievo erano piante già che stavano bene di partenza quindi attenzione non andate a raccogliere le piante che stanno per morire perché quando le raccogliete e le mettete è ovvio che staranno lì per lì a cercare di organizzarsi e moriranno ok? quindi so che vi piace il materiale che sia sofferente, che è drammatico però è una pianta che sta per morire, è inutile raccogliere perché morirà quindi piante che sono in forma, che hanno tanti rami, bel fogliame, rami tosti, grossi tronco e tanti capillari e siete tranquilli, ok? quarto, non lo so, l'asso di briscola e metterle subito in substrato specifico questo perché? perché se iniziate a fare lavori, che ne so, tirate sulla pianta, la mettete nella torba è acqua, è una pappa, una merda, una colla esagerata che non asciuga mai sì, una pianta morirà per asfissia radicale, ok? non è colpa dei funghi, è colpa vostra che avete utilizzato un substrato che non funziona bene per quello che dobbiamo fare noi un'altra cosa che è fondamentale, abbiamo raccolto la pianta substrato specifico, dovete cercare di bilanciare la chioma con le radici che abbiamo sotto ok? questo perché? perché se abbiamo troppe radici e poca chioma va bene perché comunque sia, butterà fuori se invece abbiamo molta chioma e poche radici c'è caso che la pianta abbia degli squilibri idrici quindi c'è caso che non riesce a dare da mangiarti con le foglie che ci sono sopra quindi cosa succede? il materiale si disidrata perché l'evaporazione è molto ampia rispetto poi all'acqua che può bere la pianta quindi in quel caso lì, ascoltate bene, in quel caso lì buona cosa nebulizzare la pianta ok? perché chiudendo i pori delle foglie si crea più umidità e quindi trattiene più acqua la pianta quindi butta fuori meno, il terreno magari fuga meno velocemente ok? quindi in linea di massima pianta appena raccolta che ha difficoltà a pane radicale nebulizzate, tenete umido tutto questo può equivalere, può essere la stessa cosa come quando andate ad imbustare piante che hanno difficoltà si imbustano per mantenere più umidità ok? quindi o fate quello oppure spruzzate ogni tanto un po' d'acqua così sulle foglie un altro osso di briscola ragazzi, tenere le piante all'ombra almeno 6, 7, 8 mesi ok? poi se vedete che aggrappano, che stanno bene aggrappare a star bene vuol dire aspettare finché è settembre, agosto, settembre cioè se la pianta a giugno mi fa la sparata, fa le foglie, non significa niente ragazzi ok? perché quello lì è il residuo che c'era l'anno scorso poi se la pianta aggrappa, sta bene, funziona a quel punto terrà su tutto quello che ha fatto se invece non ha funzionato, perché molti mi chiedono ah quanto tempo ci vorrà per vedere se la pianta vive o muore? ma chi se ne frega se una pianta vive, vive, se una pianta muore, si morirà ok? non state lì tutto il giorno a contare i giorni ah, ho il quinto giorno adesso, ragazzi tranquilli quando la pianta va per morire, muore secca tutta e muore ve ne accorgete se la pianta muore e ve ne accorgete anche se la pianta vive ve lo posso garantire a meno che ancora siete proprio all'inizio che non capite che una pianta è secca allora la guardate ecco, un'altra cosa che non va fatta ma perché dovete andare a raschiare i rami con un coltellino per vedere sotto se è vivo ma che cazzo vi serve? cosa serve andare a fare delle ferite su una pianta? se è morta, potete raschiare quanto volete se è morta se è viva, che cazzo raschiate che poi fate delle ferite che comunque vi rimarrà una cicatrice comunque non va bene, no? e quindi, consiglio che vi do di non fare questi lavoretti che fanno tutti che non fanno tutti e ultima cosa che è importantissima secondo me bisogna aumentare fin da subito la radicazione della pianta cosa vuol dire? quando raccogliete ci sono poche radici prima ne fate e più ne fate e prima avete la pianta salva ok? come si fa a fare le radici? con C4 Bionic e Krypton e Nanotech e Biodoped questi sono i quattro prodotti dati insieme nella fase primaverile anche di raccolta ragazzi C4 vi farà allungare rami e farà allungare anche le radici a bomba a bomba c'ha un botto di fosforo è una bomba c'ha pure l'azoto è una bomba fa allungare tutto non siamo volgari per favore però funziona è una bomba ok? e per oggi siamo a posto grazie mille sono stanchissimo prima di chiudere ci tengo a ricordarvi che sono gli ultimi 10 giorni nella quale sarà attiva la promozione del video gratuito sull'impostazione primaria perché ricordate sempre che le piante che raccogliete le piante che comprate comunque andranno impostate ragazzi ok? quindi o vi mettete in testa di fare le cose seriamente al massimo livello se no ricordatevi che il mondo non cambierà per voi che non è che a un certo punto oh ho imparato a fare bonsai no? bisogna studiare un attimo e vedere come mette in mano un professionista per poi andare a replicare quello che vi faccio vedere ok? quindi quello che vi faccio vedere io ragazzi lo dovete fare pari pari con quello che avete ovviamente il video non ci sarà più dopo ottobre non ci sarà più ragazzi tranquilli ve lo posso garantire lo tolgo non ci sarà più non sarà neanche più neanche con 100 euro lo prendete ok? non c'è più e quindi fate adesso così dopo poi d'ottobre vediamo magari faccio un altro video ancora più importante però ovviamente questo con l'impostazione che vi faccio vedere è la base dell'impostazione primaria la base veramente per imparare a fare bonsai ok? perché è ostile è retto formale la pianta c'ha il piede vi faccio vedere la profondità i primari l'apice tutto ok? quindi molto importante ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video grazie mille per essere stati qui in questo pippone di 15 minuti mamma mia lasciato mi piace condividete iscrivetevi al canale è attivata la campanella iscrivetevi alle masterclass perché il 30 c'è una diretta così se avete problemi sulle piante me le fate vedere vi spiego ci confrontiamo c'è anche della bella gente ovviamente e andate su claudiabonsai.com e prendete tutto quello che vi serve per concimare per quelli che mi stanno chiedendo cosa devo prendere per iniziare per concimare le piante protocollo nucleare fine quello è c'è tutto c'è anche il preventivo total force c'è uno sconto di 35-36 euro quindi cazzo che figata spedizione gratuita volete anche è una fetta di culo volete anche che ve la cuocio che poi ve la taglio fine fine che la mettete dentro una piada con un po' di verdurine eh quindi è così ciao a tutti ciao a tutti state bene mi raccomando ci vediamo nel prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille